carissimi genitori sono elena e vorrei spiegarvi come fare in maniera ecologica la schiuma per dipingere io per comodità ho già aperto il barattolo dei sceci si prende l'acqua di scarto dei sceci questi li userò per cucinare si monta potete dividerla per farci più colori io uso il curcuma ma potete usare un qualsiasi altro colorante naturale adesso come potete vedere per la salla si può dare per dipingere con le mani se fate più colori i vostri bambini si divertiranno ed è totalmente naturale buon divertimento ciao